Ciao ragazzi, sono Roger Gentile, il giorno d'oggi siamo con un nuovo video per il canale e siamo ovviamente su Roger, su Vival Pro e ok ragazzi, allora, il giorno d'oggi ho in mente di fare tante cose e... beh, andiamo nella cesta dell'episodio qua ragazzi, prima di iniziare l'episodio mi sono preparato questo quanto e sono entrato nel mondo e c'era questo qua che cazzo si fa questo qua? scusate, efficienza, no, non mi serve, caro mio ragazzi, una molto meglio guarda dov'è, dov'è la palla? allora, ho dato prima di iniziare, prima di aprire il cesta dell'episodio quello che ho fatto, mi spio, quello che ho fatto prima di registrare ho dato da mangiare le mucche, vedete che sono un sacco proprio, sono un sacco questo villager qua non so dove cazzo si è finito niente, ho fatto solamente questo qua allora, non mi ricordo bene cosa abbiamo fatto lo scorso episodio perchè è passato un bel po' dall'ultimo episodio ma vabbè allora apriamo qua allora vedete, dove metto tutti questi blocchi qua per non tenete in conto che non so mai niente allora, tutto questo qua prima di fare tutto quanto io vorrei incantare il piccone che mi sono preparato qua per fare un piccone perchè vedete, quello di diamante che ho dovuto vedete, è distrutto e beh forse andiamo a prendere più diamanti no, non in questo episodio, forse in off camera o in prossimo episodio non lo so allora, se sentite la mia voce un po' strana è che o sono ammalato si e come non posso lasciare senza video allora, niente se non si apre o che allora, sono obbligato a riscare no 13 oh holy shit efficienza efectienza 5 o 4 beh no so ma fortuna 3 porca puttana aspetta potenza potenza 1, potenza 2, forse ci rimane per cantare cos'altro eh efficienza, efficienza, poi cantiamo questo qua oh, wow, wow man, holy shit 26 episodi, si, potenza, facciamo questo qua va bene, tutto quanto perfetto, perfetto se cantiamo questo qua, già che ci siamo potremmo cantarlo anche prima, si è vero ma, vabbè protezione delle esplosioni e proiettivi, questo qua holy shit una porca troia, questo qua è la giornata giornata di riposo, la fortuna questo qua ho tutto in istitutività, tutto quello che ho preso è in istitutività, perfetto allora, basta incantare che abbiamo abbiamo metti esperienza allora, lo mettiamo qua e allora, cosa stiamo facendo ma intanto il piccone lo lasciamo lì ragazzi, vedete che ho preso un sacco di io vi giuro che mi passo tipo 2 ore, 3 ore così se no vado a dormire o mi metto a mangiare qua se sei tutto quanto per prendere le cose per fare il muro allora io direi di fare il muro facciamo un po' di istruzione dai e poi il giorno di oggi ragazzi come ho promesso il scorso episodio mi sa che l'ho promesso, non lo ricordo sinceramente è che facciamo un po' di esplorazione allora mi sembra in tanto caos allora allora finiamo a costruire qua e dopo bisogna salire qui vediamo che mi basti perchè se avete questo cosa qua vi spiega un sacco di di materiale vedete l'ho già spiegato un po' allora senti facciamo così dopo andiamo su a mettere tutto quanto allora cosa volevo dirvi ovviamente di fare mentre costruiamo così almeno non perdiamo tempo ovviamente di fare un live su rogersuvel pro ma ancora non sono sicuro perchè mi sono scaricato un programma che è una specie di OBS non è OBS perchè a me è OBS mi fa puttane e aspetta che non voglio cadere io qua lo scriviamo per sicurezza e allora ovviamente di fare un live di minecraft di rogersuvel infatti allora per favore se voi volete che faccia questo qua aiutatemi mettendo like a questo video se vedo che questo video arriva a tanti like cercherò faremo una prova una specie di prova di live per provare se vediamo se riusciamo a fare un live su microsoft è figo perchè sempre faccio un live io ma live di vlog non live di gameplay allora potete dire che sono tutto entusiasto di fare gli episodi perchè mi sono svegliato tutta l'energia carica è tutto pronta per giocare anche se sono ammalato ma chi se ne frega allora no cazzo vediamo vediamo questa parte qua ho detto che ci andrà il coso lì però mi sa che troppo stretto che ci vada vedremo vedremo ok ok perfetto costruirlo con legno la cosa così è meno rimane integrata con la struttura o di pietra potrebbe essere anche figo di pietra forse è meglio può essere lì adesso andiamo dentro sono rimasti i blocchi che mi rimaneva un po' per finire qua che niente da dentro rimaneva così mi sa che è un po' stretta non so voi scrittemi commenta cosa pensate allora dentro la cesta c'è anche il vetro non so se il vetro era per questo qua io sono sicuro che qua dentro qua c'è andrà il vetro ma dopo non so se cosa allora rompiamo qua e mettiamo il vetro sopra scrivete il commento sicuramente che beh si farò di pietra forse è meglio scrivete il commento se vabbè il prossimo episodio è molto povero che lo facciamo o si è già fatto per il prossimo episodio non so allora niente ragazzi questo vetro che ho in mano qua nella cesta c'è un altro po' finirò a fare questo qua e finirò la scuola che dopo lo farò vedere adesso faremo una piccola pausa così non me lo no ok grazie sto salendo sulla cupola perchè adesso vi faccio vedere la cupola vedete piano piano o meno di ogni episodio che mentre non registravo se non c'è nulla cosa da fare entravo nel mondo e faccio questa cupola stai mandando un po' grande mi piace mi piace da lontano sembra che sia una specie di palla adesso vi faccio vedere dall'alto mi sa che lo devo portare in terra per fare struttura vedete tipo voglio che si viene con l'effetto a sfera ma mi sa che spediamo un troppo alto mi sa vabbè io con tutto questo rosso qua mi sto confondendo sinceramente non so in che parte c'è il vetro di quale no perchè vedete che c'è ancora un aspetto strano non lo so allora vediamo qui è finito manca solo questa parte qui forse ho finito così peggio da lì adesso faremo una piccola pausa e forse dipenderemo quando sarà finito ragazzi come ho detto mi sa che non riusciamo a finire questa cubola perchè guardate è gigantesca la parte lì vedete quella della parte lì dovrei iniziare a andare su beh una cosa strana ma mi sa che non riusciamo a finirlo riusciamo un sacco di vetro allora andiamo giù perchè abbiamo finito il vetro lì usiamo sempre sendere mi piace mi piace come sta finando la casa dai spero che vi piace anche voi like che se vi piace la casa allora vediamo quando sta da lontano questo da lontano sembra che sta usando la vera forma si dai ok vai quella terra la toglieremo e tutto quanto mi piace mi piace allora è di nocte vediamo cosa che non cazava igual a dar explorazione ok ora ci dormiamo e non cazava suplorazione dai allora sempre riesco a dormire eh dormi ok e diamo lo che penso che che mi ha sublocato io conosco eh chiaro cosa se depende di suplorazione mi diamo supportiamo questo tipo per sicuramente che sempre la siamo lì e non l'abbiamo mai usato supportiamo anche la pala perchè serve prendere argilla neanche dentro e andiamo ragazzi sinceramente non mi ricordo se ho spiegato ah no della R non ho spiegato la R mi sai che non ho spiegato andiamo prima dell'explorazione a vedere la R perchè perchè lo so le dico sono lecce sono lecce sono lecce sono lecce non ho spiegato lecce 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 questo qua lo teniamo lì perfetto prendiamo l'esperienza che ci serve tanto allora abbiamo presa buh non ci direi ma what the fuck dove tra lì la R questa R è comparsa in un video cosa cazzo non so vediamo andiamo a scurrare che ho non so vediamo che vedete prima l'esperienza vedete prima Il lag che ho portato via! Andava benissimo il bisogno prima! Andava benissimo senza lag e tutto, senza niente. Allora, facciamo un scherzo per andare su e vedere questa cazzo di R. Questo è un cazzo! Mi sa che questo qua è del nether. Pogliamo scudo. Questo qua non fa niente. Allora, ci facciamo la miniatura con la R dai. Allora, mi sa che questi materiali non so che cosa è. Mi sa che è l'argilla. Non so, non voglio dire che fatti. Vediamo. Si, argilla. Buh. Facciamo questa R. What the fuck? Vedete che c'è il lag qua? Questa cosa qua che cosa serve? Barra è del n. È del n. Buh. No, cosa è strana ragazzi, cosa è strana? Allora, ci andiamo a cercare questa cosa della cesta e ci vediamo per la esplorare. Allora, ci vediamo questa cosa della cesta e ci vediamo per la esplorare. E, dice che vediamo per la esplorare, però che non vediamo per la esplorare. Sempre vediamo per la esplorare. Allora, ci vediamo a cercare di fare qualcosa che non so, sinceramente. se vuoi fare una torre e la torre lo fa talì. E anche se vedete che mani figa davanti a lontano dai. O di là. Io se c'è qualcosa di figo di là. No so, queste cose della R mi sinceramente non so, perché? Su già che riguarda il cazugger, la vecchia seria cazugger. Vete a vedere. No, mi sa che i ragni sono buoni, i bidon. No, noi lo marchiamo stesso. What? What the fuck? Perché c'è un lag? Non so, adesso. Allora. Il prossimo ammontagnato, si. Carbone, ci serve il carbone? Non so, non so se mi serve il carbone. Mi sa di no. Mi sa di che ne abbiamo un bel po'. Allora. Andiamo, andiamo di là. Che cazzo è quella merda? Ragazzi, che cazzo è questa merda? Aspetta, controvoci. What the fuck? Ragazzi. Che cazzo è? What? Se mi ha colpito? Avete sentito? Oh ragazzi, che cazzo sta succedendo? What the fuck? Che? Perché ho 6.000? Ragazzi? Che cazzo? Cosa è questa cosa qua? Mi raccomando? Ragazzi, non so. Sono gli agliani qua e già ha fatto le cose... È anche simmetrico, guardate. Ragazzi mi sono ric Pre.. Ragazzi no, non ci credo. Ragazzi, mi sono ric.... Ragazzi dellaiku di lag qua. Non credi bene. Ragazzi... Lagazziого qua, non credi bene. Ragazzi cazzo? Ok, che ma non scicio befff? Eh, mi sono nervoso. Ragazzi... Mi ricordo in una puntata, non mi ricordo quale, abbiamo fatto un rituale, c'era la cesta della strega e abbiamo fatto un rituale con la testa di Creeper per invocare Rudolf, se non lo ricordate. Guardate come lagga! Allora, mi lagga un sacco ragazzi. E ho fatto una cosa del genere, tipo così, ho fatto un attore con la testa di Creeper e cosa? WTF? WTF? Che dopo Caus mi ricordo che ho fatto un video, che è sempre di Causer, che c'era una specie di cose dell'end, tipo, ecco ragazzi, le cose del drago, c'erano. E io c'ho la barra, beh l'ho lasciato a casa, WTF ragazzi, non capisco un cazzo. WTF? Guardate mi lagga, mi lagga un sacco ragazzi, non so se sta registrando ma mi lagga. Non so ragazzi, perché ci sono semi da tutte le parti? Ragazzi, mi sta bloccando anche la... Ragazzi, mi ha tolto, mi ha tolto, ragazzi, mi ha tolto il mondo! Ragazzi, me... WTF? Ragazzi, mi ha tolto il mondo ragazzi, porca, porca... Ragazzi, mi ha tolto il mondo. Oh, io, un po' io. E questa cosa qua succede in Causer, perché cazzo sta succedendo anche nella mia serie? Uff, io torno a casa, io non voglio stare a provare questo episodio, perchè di là non so se vuoi provare di là Eh, non so, ragazzi, no, no, ok, ragazzi, ok, lo stesso, iscrivetevi ai miei siti iscritti Eee, iscritteli in commenti cosa pensate voi di questa cosa qua perchè io non ho idea Sarà la stessa cosa che succede in Coucher? Non lo so, un po', spero di no perchè è andato a puttare molto in Coucher Spero che non vada a puttare in tutto questa serie perchè non voglio che vada a puttare in questa serie perchè mi piace un sacco Eh, ragazzi, no so, eh, per favore, aiutatemi Allora, ci vediamo la prossima, bye